ciao a tutti amici e amiche di ricette per cucinare sono il vostro chef e sono qui per prepararvi le lasagne di mare abbiamo bisogno di una fettina di salmone tagliata a dadini due seppie già curate e pulite 300 grammi di mazzancolle 300 grammi di vongole fatte sgusciare un mazzetto di prezzemolo tritato 250 millilitri di passata di pomodoro delle lasagne fatte in casa per questo è seguita la nostra ricetta e besciamella per un litro di latte e anche quella fatta la seguendo la nostra ricetta iniziamo a preparare il sugo di pesce quindi tagliamo a striscioline la nostra seppia adesso diamo una tritata grossolana metà delle mazzancolle l'altra metà invece la teniamo intera in modo da averle intere poi nel pasticcio soffriggiamo il prezzemolo con un filo d'olio un po di aglio dopodiché mettiamo a saltare la nostra seppia una volta che le seppie avranno lasciato il loro liquido aggiungiamo le mazzancolle tritate e il salmone aggiungiamo anche le vongole ora uniamo il sugo di pomodoro mettiamo una presa di zucchero di canna saliamo e aggiungiamo un po di liquido di cottura delle vongole in ultima aggiungiamo le mazzancolle intere e una volta che si saranno appena appena cotte spegniamo il fuoco ora componiamo il nostro pasticcio mettiamo uno strato di besciamella sul fondo strato molto sottile e iniziamo a disporre le lasagne mettiamo uno strato di besciamella ora aggiungiamo un po di pesce ora aggiungiamo un po di pesce ora che è pronto lo mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi ed ecco pronte le lasagne di mare un saluto a tutti e arrivederci alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.